buongiorno a tutti da andrea cartotto per una nuova puntata del cartotto education come potete vedere alle mie spalle ci troviamo davanti ad un quadro impressionista no ma in realtà siamo davanti ad una particolarità veramente suggestiva ci troviamo a mezzano in provincia di trento inserito nel circuito dei borghi più belli d'italia e mezzano è famoso per il suo modo artistico di accatastare la legna la legna viene accatastata non solo per motivi di economicità e poi appunto di gestione ma anche per motivi artistici guardate seguitemi cosa sono riusciti a fare in questa casetta è un'opera d'arte vera che si chiama montagna in trattino canto montagna in canto guardate la bellezza guardate la bellezza la legna è accatastata le note in legno e questi pannelli illustrati meravigliosi montagna in canto queste cataste hanno un nome particolare il nome è cansei e i cansei sono proprio queste cioè queste cataste che troviamo diffuse all'interno del borgo divise anzi per aree tematiche da visitare bene che dire a questo punto un caro saluto vi invito a visitare questo suggestivo borgo e a presto da Andrea Cartotte e dal Cartotte Educational ciao